Quanto può valere una ragazza? Per un gruppo di romeni dedito alla prostituzione, 500 euro. È quello che ha scoperto la questura di Siena che ha stroncato un giro di sfruttamento della prostituzione. Un gruppo di romeni infatti cedeva giovani connazionali che erano attirati in Italia con il solito inganno di un lavoro pulito, magari come babysitter o cameriera, e che poi invece si ritrovavano in strada, soprattutto in provincia di Siena, a prostituirsi nella zona di Castelnuovo Berardenga. Sono stati arrestati tre rumeni, due uomini e una donna tra i 27 e i 38 anni. Denunciate altre quattro persone. I reati che ipotizzano gli inquirenti sono quella di tratta di persone, riduzione in schiavitù, sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione. La vendita delle ragazze per fortuna però non sarebbe andata a buon fine perché proprio le giovani si sarebbero rifiutate, una volta arrivate in Italia, di lavorare sulla strada. Proprio la ribellione di una di queste ragazze, riuscita a scappare, ha dato il via a queste indagini. Nell'inchiesta è emerso che le ragazze erano portate in Italia dalla connazionale che è finita in manette. Questa donna lavorava in provincia di Arezzo come badante, ovviamente in nero. La donna approfittava della sua rete di conoscenze nel suo paese di origine, la Romania, proprio per attirare le giovani che lei riponevano una grande fiducia. Si tratta di ragazze maggiorenni e anche le famiglie entravano in confidenza con questa donna non sospettando quale fosse la sua reale intenzione. Il capo della banda era un 38enne, ufficialmente era un artigiano, aveva infatti un'impresa idile proprio in provincia di Arezzo. L'altra persona arrestata invece è un 37enne, titolare di un'officina meccanica.